Grazie a tutti. Farà del contatto con Roma l'occasione per una vita poi di studi e di ricerca proprio rispetto a questa grande potenza che aveva incontrato sul campo di battaglia. Polibio è il figlio di Licort, un comandante della Lega Achea che nasce a Megalopoli nel finire del III secolo a.C. muore molto probabilmente in età molto avanzata sul finire del II, una volta tornato in Grecia, intorno al 116 a.C. Si diceva che erano il parco della Lega Achea, erano uno dei personaggi importanti del partito antiromano o meglio di quel gruppo di intellettuali greci che si era comunque schierato contro Roma. e all'indomani della battaglia di Pedra nel 168 a.C. quando Lucio Emilio Paolo sconfigge Persio e definitivamente quindi piega la Grecia dinanzi a Roma, ma viene inserito il nome di Polibio appunto nell'elenco di un gruppo di personaggi dei quali Roma chiede l'invio come ostaggi, come prigionieri appunto di guerra. In realtà la vicenda che poi Polibio viverà a Roma sarà molto diversa da quella di un prigioniero perché diventerà presto amico di Scipione Emiliano, del figlio appunto di Lucio Emilio Paolo, si inserirà in quello che diventerà presto l'ambiente Scipionico, diventerà uno degli ideologi e seguirà anche Scipione nel 134 durante la guerra di Romanzia, forse addirittura alla Cassistette e anche alla caduta di Cartagine. Sappiamo infatti che intorno al secondo secolo fu proprio con Scipione sia durante un viaggio in Grecia sia appunto nel corso dell'ultima guerra punica. Una volta distrutta Corinto, dopo la distruzione dell'ultima grande città greca, Polibio per un po' restò in Grecia e sappiamo anche che cercò di mediare tra i greci e i vincitori romani, anzi aiutò anche un po' nella riorganizzazione delle città greche che erano diventate ormai parte di questa provincia romana. Solo la morte di Scipione ritorna definitivamente in Grecia dove muore età molto avanzata secondo la tradizione per una caduta da cavallo. Polibio scrisse diverse cose. Si diceva che è un uomo politico ed è un comandante di cavalleria, scrisse non a caso un trattato di tattica, scrisse una biografia di Filopeme, mentre Libi, che era stato un altro degli esponenti della lega chea, scrisse anche una storia della guerra di Romanzia, ma tutte opere delle quali poco sappiamo. Quello che invece sappiamo, quello che a noi è pervenuto, è parte delle storie. Le storie di Polibio dovevano essere in 40 libri, ne leggiamo integri i primi 5, perché poi, come accade spesso nel mondo antico, le opere di una certa consistenza, di una certa lunghezza, cominciarono a circolare anche in periochi, in sintesi, in assunti. Che cosa raccontavano le storie? Ma come abbiamo avuto modo di vedere anche leggendo parte del premio, Polibio si concentra su quegli anni che lui individua, inizialmente dal 220 a.C., poi fino al 168, poi in realtà fino al 146 a.C., cioè gli anni in cui, in pratica, Roma, dalla seconda guerra punica in poi, progressivamente, nel giro di una cinquantina d'anni, come lui stesso peraltro scrive, conquista tutto il Mediterraneo, conquista tutta l'Oecumene. Alle sue storie, o meglio ai libri nei quali inizia a raccontare tutto questo, premette poi due libri di introduzione che ricordano un po' nella metodologia, nelle modalità, l'archaeologia di Tucidide, perché prova a rimettere insieme, a organizzare, a raccontare gli avvenimenti che nel Mediterraneo vengono vissuti dal sacco di Roma, praticamente fino alla prima guerra punica. All'interno di queste storie è sicuramente da segnalare, dal punto di vista contenutistico, il stesso libro nel quale viene fuori anche la definizione di quella teoria dell'anaciclosi che Polibbio riprende dal pensiero aristotelico in particolare, ma anche in parte dalle teorie platoniche, che riadatta, rivede nell'ambito di quella che è la storiografia del mondo romano. Ma detto pure che, come avremo modo poi di osservare, questa teoria dell'anaciclosi contiene anche delle ambiguità, perché in effetti da una parte postula appunto una tripartizione, una classificazione delle politeie, cioè delle costituzioni, se ricordate tre forme sane e tre malate, dall'altra poi in realtà postula una settima, diciamo così, costituzione, che sarebbe poi la Costituzione Unista dei Romani. Ma, ripeto, su questo poi torneremo più avanti. Conosciamo Polibbio anche alle fonti indirette, cioè agli autori che di Polibbio si servirono, in primis Tito Livio, che sicuramente nelle sue libri di storia si servì molto soprattutto della parte che Polibbio dedica alla guerra nibalica, quindi lo conosciamo sicuramente anche da qui. Quali sono i nuclei fondanti di queste storie, nuclei concettuali importanti di queste storie? Ma sicuramente Polibbio, come racconta nel Proemio, come scrive nel Proemio, intende raccontare quello che è il primo grande processo di globalizzazione del mondo antico, o per meglio dire il primo momento in cui il mondo antico, loicumene, come la definisce Polibbio, conosce una sua unità sotto un unico grande dominatore, i Romani. Polibbio fa una rassegna dei grandi imperi del passato, parla dei macedoni, parla degli ateniesi, parla dei persiani, osserva però che nessuno di loro era mai riuscito prima a realizzare un impero così vasto e che nessuno di loro soprattutto era mai riuscito a dare a questo impero una solidità, una forza, come quella che invece i Romani sembrano aver dato a loro. La realizzazione di questa storia è una realizzazione continuata negli anni. Nel passato si è discusso anche sulla metodologia seguita da Polibbio, vale a dire anche qui una sorta di questione polibiana, per capire se Polibbio avesse scritto nel corso degli anni o tutto alla fine. In realtà è molto probabile che Polibbio abbia lavorato a quest'opera per molti anni, e che quindi ci sia una continuità nell'opera, una continuità che nasce forse di impegno, che nasce anche e soprattutto da quello che Polibbio intende fare con questa storia. Vale a dire, la sua idea di storiografia in un panorama in cui, come abbiamo visto, la storiografia greca conosceva tutta una serie di tendenze, ma che si poteva sostanzialmente dividere in due grandi filoni, la storiografia pragmatica legata all'utile ed una storiografia invece finalizzata al diletto, spesso anche legata al pato, ossia effetti quasi tragici nel racconto, Polibbio sceglie una storiografia utile. Una storiografia che, come abbiamo detto, come abbiamo letto anche nel proemio, deve servire per gestire le cose, deve servire soprattutto a che gli uomini politici, un po' come Tucidio stesso aveva scritto, che si possono trovare a gestire certe situazioni. Il ricordo del passato, lo studio del passato, come aiuto per capire il presente, come monito per gestire meglio il futuro. Una storiografia, come abbiamo detto, in Polibbio ha anche una utilità di tipo morale, perché conoscere il passato spesso può aiutare, come scrive Polibbio, a sopportare anche i colpi della sorte. E non dimentichiamo che Latiu, che è appunto la sorte, è una delle componenti fondamentali della cultura ellenistica. Una storiografia che è in questo pragmatica, cioè a dire fatta di cose, perché l'utile nasce dalla conoscenza reale delle cose. E' una conoscenza resa ancora più possibile, ancora più vasta, ancora più importante, ancora più significativa, dal fatto che per la prima volta, osserva Polibbio, è possibile fare una sorta di storiografia universale, parlando di Roma, perché appunto tutta l'oicumene è ormai nelle mani di Roma. Quali sono i metodi, quali sono gli strumenti che Polibbio ritiene fondanti per la storiografia? Ma intanto l'autopsia, Polibbio attacca Timeo, perché considera Timeo uno storico scrupoloso, ma da biblioteca, uno storico che lavora sulla storia degli altri, che non ha mai visto un campo di battaglia. Polibbio ritiene invece che sia necessario vedere le cose. D'altro canto, Polibbio non limita a questo il suo campo di indagine, ma come gli storici che l'hanno preceduto, evidentemente sa che esiste una importanza delle fonti e un'importanza anche dei documenti nel ricostruire in essi causa-effetto che poi fanno la storia. E proprio per questo ci tiene a segnalare la sua differenza tra gli altri grandi storici del passato, tra gli altri grandi storici, soprattutto tra quelli a lui contemporaneo quasi, per esempio Fabio Pittore, che è un romano ma che scrive in greco e che Polibbio attacca perché è fazioso, perché è troppo filoromano, o gli storici per esempio filo-cartaginesi. Polibbio invece è uno che prova ad essere oggettivo e che per cercare di contribuire alla crescita di questa storia intesa come scienza, di questa storia intesa come un momento di studio fondamentale dal passato per capire il presente e per capire il futuro, elabora anche una dottrina, chiamiamola così, una distinzione tripartita in tre delle cause che ha sicuramente delle novità rispetto a quello che Tucci di te faceva. Polibbio infatti individua un archè, individua cioè un momento iniziale, come dire il momento concreto in cui l'avvenimento storico si sviluppa e individua poi anche due tipi di cause ai quali che chiama con i nomi di Prophasis e Aitia, vale a dire da una parte la causa vera di un avvenimento dall'altra quella che noi potremmo definire un po' il pretesto e in questo, devo dire, ribaltando, capovolgendo anche nel significato i termini appunto Aitia e Prophasis. Polibbio è molto attento anche allo studio delle Costituzioni, si è detto appunto la teoria dell'anasciclosi. Polibbio parte dal presupposto aristotelico in primis, ma già trattato poi anche da Platone, per esempio è un'idea questa che compare in Platone e in Aristotele, del cambiamento delle Costituzioni, cioè come ogni organismo vivente anche le Costituzioni hanno un ciclo che vede un'alternanza tra forme sane, sane, cioè la monarchia, l'aristocrazia, la democrazia, e forme malate, la tirannide, l'oligarchia e l'oclocrazia. Polibbio è convinto che alla base della potenza romana ci sia l'aver trovato una politeia, in questo si diceva prima c'è un'ambiguità, perché da una parte c'è questa classificazione, dall'altra poi subentra questa sorta di settima Costituzione, che è appunto una Costituzione mista, una Costituzione nella quale i romani sono riusciti a contemperare gli elementi migliori delle Costituzioni, vada a dire i consoli che rappresentano il potere monarchico, il senato che rappresenta l'aristocrazia e il potere dei tribuni che rappresenta l'elemento democratico. È vero che nell'ultima fase della sua vita e in alcune pagine delle storie, in alcuni momenti delle storie, viene fuori un pessimismo un po' diverso, cioè un momento in cui forse Polibbio ha contatto con Roma e con quello che stava succedendo, non dimentichiamoci che all'indomani dell'ultima guerra punica per Roma si apre una fase comunque di crisi interna, pensiamo per esempio alle vicende dei Gracchi, Polibbio ripensa a tutto questo e forse vede anche più in pericolo questa grande potenza dei romani. D'altro canto, si diceva, la sua analisi è lucida, è attenta, è scrupolosa, tocca per esempio la religione. Polibbio è il primo a vedere nella religione un instrumentum regni, cioè un legame forte che sembra avere un significato più concreto e politico che non spirituale, così come non può fare a meno di considerare la sorte, che talvolta sembra quasi essere un'entità oscura, appunto, metafisica, altra, una specie di caso beffardo che si diverte a scommolgere i piani degli uomini. Certo che la storia dovette essere un'opera straordinaria, ricca, lucida, meticolosa, scritta con quella coine di Alektos che sicuramente non affascinava e non colpiva emotivamente il lettore come il greco di Lucidide, ma che resta sicuramente una pietra miliara della storiografia antica. Grazie. Grazie. Grazie.